Ciao a tutti, siamo i due giocatori incapaci E vi vogliamo far sapere Che siamo disponibili Aperti a fare collab Con tutti voi se ce lo chiedete Perché c'è uno su youtube Che cosa fa solitamente Prende e invia i messaggi alla gente E gli fa, ehi vuoi fare una collab con me stronzone Solo che a noi ci pesa il culo E quindi abbiamo detto, perché non fare un video Dove lo annunciamo direttamente Così è la gente che può chiedercelo a noi Perché siamo due stronzi giustamente E quindi nulla Fondamentalmente è questo L'importante è che tipo Abbiate un microfono Decente, non come player Appunto E voglio anche cogliere l'occasione per dire che Per chi non lo sapesse Youtube Pochi giorni fa mi sembra Ha dato l'opportunità A tutti i youtubers Di appare i video a 60 fps Per vedere i video a 60 fps Che noi cercheremo di Di appare più spesso possibile Dato che abbiamo un canale di videogame Quindi il framerate È un Diciamo Non dico è fondamentale Sì insomma Cioè Se avessimo un canale di cucina Nemmeno ve lo diremo Però ecco Siccome comunque abbiamo un canale di videogiochi Potrebbe essere figa la cosa Quindi noi cercheremo sempre di appare Questi video a 60 fps Comunque il fatto è Per vederli Non so se internet explorer Ve li regge Ma nessuno dovrebbe usare internet explorer Nessuno ragazzi Per quelli che usano mozilla firefox Come browser Non li regge i 60 fps Non ci sta ancora Almeno per ora Esatto Ancora no Quindi dovrete usare google chrome Sono sicuro che con google chrome Funga Perché ho fatto una prova Comunque Detto questo State vedendo Quantum Rush E vi lascio player a parlarvene È un gioco sviluppato da Game Art Studio GMVH Di corse Una specie di clone di Wipeout Niente Il gioco fa Fa tipo Lagga da morire Il server è ingiocabile I livelli sono carini Solo che non c'hanno molti dettagli La grafica è bellissima E nulla penso È tipo Penso che L'unica cosa che Ci sia da dire È che nessuno ormai ci gioca È infatti È tipo La maggior parte De quelli che vedete Sono bot Sono bot Esatto Sono giocatori in più di noi E la cosa è devastante Comunque ragazzi Quello che volevamo dire L'abbiamo detto Ci vediamo alla prossima Scrivete qualcosa qui sotto Pollicione putta verso il pano nord Condividete il video Iscrivetevi al canale Ciao 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 Grazie a tutti